Passiamo con la dirigente del Casanoia, assessore allo Sportas Salvatore Enrichiello 1-1 che ti soddisfa un punto, allora se si ragioni in termini positivi un punto che incrementa il sogno playoff però la tua analisi critica al termine dei 90 minuti, si deve chiudere anzitempo il match Sì, abbiamo sprecato qualche occasione quando eravamo in vantaggio però voglio dire ai ragazzi che non si può chiedere nulla, tra l'altro loro erano assetati di punti perché loro dovevano fare questo pareggio in casa per salvarsi matematicamente e quindi giustamente hanno dato il tutto per tutto Noi abbiamo il match ball sabato prossimo Sabato prossimo con la vittoria eventuale contro il Submarionale Trieste in casa a Casalnuovo centriamo matematicamente i playoff Parlarne oggi, dire che se vinco una partita, vinciamo una partita, andiamo nei playoff sarebbe stato assurdo pensarlo fino a qualche tempo fa invece sabato prossimo possiamo centrare questo obiettivo Diciamo che da qui all'eccellenza ci mancano quattro vittorie quella di sabato prossimo e poi le tre finali che dovremo affrontare fermo restando che in settimana i soci si sono riuniti e penso che in un modo o nell'altro noi vorremmo fare la categoria superiore l'anno prossimo dell'eccellenza Si punta senza mezzi termini Sì, noi vorremmo vincerla sul campo vorremmo che i ragazzi con quattro finali ci portassero nei playoff ci portassero in eccellenza vincendo quattro finali se riusciremo a fare questa impresa ne saremo ben contenti se no appena dopo il campionato la società metterà in atto ciò che sta preparando e cioè il campionato di eccellenza per la prossima stagione Nelle ultime settimane si legge tra siti e giornali di accoglienza incivile di ambienti ostili perché si entra a poche giornate alla rascia finale quindi gli animi diventano incandescenti a nome del Casanovo io credo che sia doveroso ringraziamento alla società del Rione Terra per la splendida accoglienza sorrisi prima, durante e dopo al di là del parigio finale ma l'accoglienza è stata ottima Sì, sì, no ma assolutamente sì è stata veramente una bella giornata di sport in un contesto in cui loro avevano bisogno di punti quindi non è che stavano giocando così tanto per giocare loro hanno fatto la partita della vita oggi perché con la vittoria, con il pareggio di oggi loro hanno raggiunto la matematica salvezza quindi voglio dire quando le partite magari contano poco è facile fare le brave persone mentre invece nonostante il risultato era incerto noi siamo in corso per il playoff loro in corso per la salvezza e invece ma già all'andata voglio dire noi in casa abbiamo ben accolto tutti quanti voglio dire quindi giustamente è lo spirito della società tra l'altro assolutamente sì sì, assolutamente sì grazie